Siamo tutti e siamo tutte, questo è Baby Desi, è di una piccola renna, di Babbo Natale! Ok, chi sei tu, presentati! Una piccola renna di Babbo Natale! E' vero? Ok. Ciao a tutti e ciao a tutti, bentornati in un nuovo video! Sopra voi, tutti i rossi. Sopra voi, insieme oggi proveremo la crostata Nutella Biscuit che ho vinto. Ha vinto l'ennesimo contest mia sorella e si tratta di mangiare di cibo, quindi siamo interessati. E non condividerlo con voi, come abbiamo provato anche insieme a voi un chilo e quattro di caramelle che è sempre avvinto. Lei, perché partecipano a tante cose. Io partecipo sempre, quindi. Quindi non l'abbiamo provata in Nutella Biscuit, in particolare proprio il biscotto, perché ci sembrava una cosa troppo banale. Infatti, tutti quanti li stanno comando. Noi li abbiamo già provati, devo dire. Quindi ora proveremo la crostata. Li abbiamo già provati e ci sono piaciuti, vero? Sì, molto buoni. Anche nel latte caldo, quindi vi consiglio di provarli. E niente, vogliamo provare questa splendida cosa e niente. Andiamo. Andiamo, a dove? Andiamo a provare. Andiamo a provare, ma? Vi ricordiamo, prima di iniziare questa magica prova, di... Seguci su Instagram e su Facebook e su Story, sulle Story, perché io faccio storie. Iscrivervi al canale e attivare la campanella. E ovviamente condividere questo video se vi piacerà, uuuuh, e mettere un like. Metti, metti il like. Metti il like, mettete un'altra, mettete un'altra, mettete un'altra. Ok, metti il like, metti il like. Ancora voi la crostata Nutella Biscuit. Wow, dai. Molto bello. Dai, ti piace? Ciao, ciao. Ciao, ciao, dai, scopriamola, scopriamola. Uppi di mouche. Sorella, ti rompi, ti rompi. E ecco voi. What's up, guys? La Nutella Biscuit. La Nutella Biscuit, ragazze. Odore, che odore. Che odore, Nelly con scaldi ci piace tanto? Si, tantissimo e soprattutto le più buone. Ok. Wow. Ok, biscottino, dicontesco, siamo pronti? Siamo pronti per mangiare questa crostata, vai. Vai, primo taglio, vai, tagliate la torta, muori. E dai, sorella. Dede forza, vuoi la facci. E' meglio il cortilello. E' meglio il cortilello, sorella, crostata. Penso che è meglio il cortilello, agliù. Ma tu mi dici che era tutto morbido. Ma tu non si taglia così, si taglia con il cortilello. E' qualche cosa. Ah, come questo è il tosto. È una mia buona torta, sicuro. E' meglio il cortilello. Ma va, 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 va. A te. Sorella, dai, proviamo questa piccola, questa piccola. vai proviamo vai ok semplice biscotto ma dai buona Allora la patricola della crostata è che fa tutte bricioline Ma non lo vuoi più qua Dove vai? Molto buona Molto saporita E poi ce la voglio dire la crostella Senti allora io non so mangiare più Ma che io la crostata la so mangiare C'è davanti uno Ogni giorno mia sorella ha una crostata diversa Questa l'ha vinta voglio dire Proviamo lei ad andare a finire questa crostata Ok mi sono mangiata tipo mille mila chili di rossetto Però molto buona Non so se nella vostra città avete già provato Se avete già trovato una crostata del genere Ma se la trovate fatevela fare Ecco A lei non piace tanto perché si sta la mandando Un altro giro Un altro giro Girato Una valutazione generale del gusto Della fiabilità Della bonità A noi ci piace Ci piace Dici ci piace E dici Ci piace Ci piace No Ci piace Dunque Da questo video è tutto Dal Nutella Biscuit Crostatina è tutto Se il video vi è piaciuto mettete un like Seguiteci Iscrivetevi al canale E seguite le storie Mi raccomando Non mancate Perché vincere con il test Ci vediamo al prossimo video E buone feste Anche a voi Ciao Intendeva Buone feste A voi Buone feste 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 Mi dà molte risposte Che faci Ciao ciao a tutti Buone feste